Il 10 ottobre del 1813 nasceva Giuseppe Verdi, uno fra i maggiori musicisti di tutti i tempi. I consoli per la Lombardia del Touring Club italiano hanno voluto celebrare questa ricorrenza proponendo ai soci alcuni appuntamenti con la figura e l'opera del grande maestro. I consoli di Lodi organizzano un'intera giornata a Milano con visite al Museo della Scala, ai laboratori Ansaldo e a Casa Verdi. I consoli di Crema organizzeranno il 24 novembre un intrattenimento musicale con esecuzione di arie verdiane alla Villa Toscanini di Ripalta Guerina. I consoli di Milano prevedono due appuntamenti. Il 30 novembre verrà offerta a tutti la possibilità di ritornare a visitare la Casa di Riposo Giuseppe Verdi. Il 18 dicembre, al Museo degli Strumenti del Castello Sforzesco, si potrà visitare la mostra Tracce di Verdi a Milano, alla scoperta di lettere, scritti autografi e partiture originali provenienti dall'archivio storico Ricordi. Infine, una notizia in anteprima. Anche il tradizionale concerto prenatalizio, che avrà luogo quest'anno il 15 dicembre, come sempre al Teatro Dal Verme, prevede un programma musicale dedicato a Verdi e i suoi contemporanei, con brani eseguiti dall'Orchestra Cantelli di Milano, diretta dal maestro Giorgio Matteoli. Grazie a tutti.